Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono già benvenuto e oggi siamo qui in un nuovissimo video in cui andrò solo a parlare di che cosa farò sul canale da adesso fino a non lo so a quanto allora praticamente andrò a fare allora ho detto allora 20 volte allora devo stare calmo 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 non devo stare zitto devo stare calmo non devo stare zitto allora dopo che mi sono sfogato 10 secondi ho deciso così di organizzare la settimana allora il lunedì e il mercoledì ci sarà una carriera su fifa a 23 ovviamente sempre un anno cercheremo di vincere lo scudetto al primo anno con una squadra casuale e praticamente poi da martì faremo martedì faremo martedì dove vabbè mercoledì ci sarà di nuovo la carriera su fifa cioè lunedì e mercoledì e mercoledì ci sarà la carriera su fifa e martedì e martedì giovedì e venerdì e venerdì allora venerdì non registrerò nessun video cioè venerdì non pubblicherò niente da venerdì fino a domenica non pubblicherò niente perciò i primi quattro giorni della settimana pubblicherò qualcosa pubblicherò carriera su fifa 23 poi martedì non so che pubblicare o pubblicherò il fantacalcio oppure pubblicherò un'altra cosa poi mercoledì pubblicherò un altro episodio di fifa e poi giovedì andiamo tipo a provare dei giochi o andiamo a fare delle reaction ad alcune cose oppure andiamo a parlare degli ultimi trasferimenti tipo quello di Woodrick al Chelsea per 100 milioni però non credo e perciò questo qua è il programma della settimana che vi metto qua vi metto qua e niente ho deciso di ricominciare e non voglio smettere come vedete oggi ho portato video di fifa questo video uscirà dopo il video di fifa con l'Atalanta perciò se ve li siete persi iscrivetevi al canale e lasciate like poi andate a rivederli i video con la Lazio e con l'Atalanta perché sono veramente belli sono riuscita a registrare lo schermo una cosa che non sapevo neanche fare ci sta proprio dire queste cose così a caso e perciò niente ci vediamo al prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto e come sempre vi invito a lasciare un bel like iscriversi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ovvero il video di giovedì 8 febbraio del 2023 meno male che noi siamo ancora nel 2022 ciao ciao Grazie.